Libera a Fruvit nella sesta giornata della serie B2 girone C di volley batte in trasferta l'inglesina Altavilla per 3 a 0 con i parziali 15-25, 19-25 e 24-26. Gara non bella tra due squadre, la prima e l'ultima in classifica, che si presentavano con stimoli diversi ma entrambe con l'obiettivo di fare il risultato. Coach Pantaleoni a fine gara ammette che non è stata una bella partita ma dice erano importanti i tre punti. Non volevo rinunciare al nostro gioco, spinto e veloce, visto che l'avversario si avrebbe permesso di farlo, spiega il coach. L'inglesina ha problemi di carattere tecnico ma soprattutto di motivazione. Noi ci siamo riusciti per un 7 e mezzo e dalla fine del terzo, quando eravamo sotto 23-12, poi 24-22 con l'acqua alla gola noi ci trasformiamo. Stavolta è andata bene ma abbiamo corso parecchi pericoli nel terzo set. Tutte le ragazze hanno avuto il giusto approccio, abbiamo chiuso la partita con due muri sul 24 pari, quando noi di muri ne facciamo pochi ma al momento giusto e questo è un bel segnale. La battuta non è stata incisiva come al solito, solo 8 punti con 8 errori, non male la percentuale d'attacco complessiva di squadra con il 36%. Non abbiamo difeso male, conoscevamo abbastanza le avversarie che per uscire dalla posizione in classifica cercavano di fare bene le cose semplici. Abbiamo difeso sulle loro diagonali più del solito. In attacco la consegna era di non sbagliare quando l'ho alzata non era perfetta ed in parte ci siamo riusciti. Non abbiamo rischiato, ricorda Panteleoni, in previsione dei due prossimi incontri che saranno durissimi. Sabato prossimo in casa nostra con l'ospitaletto, squadra che sbaglia pochissimo, poi contro l'almenno in trasferta. Vorremmo essere pronti, cercheremo di essere veloci e se è possibile di giocare con i centrali. Saranno due sabati terrificanti ma siamo pronti a giocarcela. Dopodiché, se saremo ancora nelle prime tre, proveremo ad arrivare quarti o quinti. Sarebbe un sogno, già due anni fa eravamo primi sino alla settima giornata con 15 punti. Poi, conclude, ci siamo salvati e ricordiamoci che anche quest'anno l'obiettivo primario è la salvezza.